La storia di due secoli, dalla fine del Settecento fino alla metà del Novecento, attraverso il tessuto e il design. Da domani al 30 aprile 2023, il Museo del Tessuto porta in mostra oltre 100 oggetti del proprio patrimonio per testimoniare le trasformazioni avvenute nel settore tessile con la meccanizzazione dei processi produttivi e la successiva industrializzazione, ma anche il legame tra arte e moda. Il percorso, curato dalla conservatrice del Museo Daniela degli Innocenti, si compone di abiti maschili e femminili, tessuti, figurini di moda, libri di campionario e accessori. Che mostra le connessioni tra l'arte e il tessuto e tra l'arte e il tessuto e l'industrializzazione in un percorso di crescita che dura quasi due secoli. Tanti pezzi inediti perché entrati recentemente in collezione o perché oggetto di restauro. Come l'abito da sposa in due pezzi della fine dell'Ottocento, l'abito a tunica di Maria Monaci Gallenga degli anni 20 stampato a matrice, il mantello da sera dell'atelier Elsa Schiapparelli, l'abito da cocktail degli anni 50 della Sartoria Romana Fanucchi. Abbiamo in mostra un unico prestito che è quello di Massimo Cantini-Quarrini, è un bellissimo abito che ha testimonianza dell'amicizia che è rimasta fra il grande costumista, due volte nominato al premio Oscar, e il Museo del Tessuto. Per visitare la mostra il pubblico potrà anche approfittare delle aperture serali straordinarie. Il giovedì sera, in particolare 21 e 28 luglio, 4 e 25 agosto e 1 settembre.